È proprio bello, la forza di questo festival sono anche la rete di volontari, di ragazzi che portano un entusiasmo incredibile. Penso che quest'anno sarà ancora meglio e è una ventata di novità per la nostra città, quindi sono veramente molto orgoglioso. Come stanno vivendo questi giorni che riparano al festival? Con voglia di vedere gli incontri con gli autori, di ascoltare. È bello che ci siano chi ha scritto dei libri, che ti fa vivere le emozioni, che te li racconti. È bello conoscere le persone che così spesso ci portano in un altro luogo. Quando leggo un libro penso proprio al significato della parola divertire, che è quello di guardare da un'altra parte. Quindi è un vero divertimento e penso che non vedo l'ora di incontrare gli autori, che anche quest'anno sono tantissimi e bravissimi. E cosa suggerisce ai giovani di oggi per avvicinare alla lettura? Il fatto che, come ha detto una persona molto più importante di me, l'unico modo per vivere più vita e conoscere più modi è quello di leggere. Quindi penso che sia la cosa migliore e più bella che si possa dire. E' tutto. Ho fatto un po'. Perfetto.